buongiorno buongiorno allora partiamo dalla notizia fresca 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 per lo meno mentre sto registrando perché è una cosa di pochi minuti fa ho fatto tempo anche ad inserirla al volo nel servizio di sport media 6 di questa mattina ossia santoriello il pm rinuncerà a sostenere l'accusa nei confronti della juve nell'eventuale processo penale davanti al guppe eccetera e via dicendo il motivo è stato praticamente l'accanimento mediatico diciamo così o comunque la viralità di quel adesso si usa dire questo no è il termine di noi giovani la viralità a livello social e mediatico comunque di quel famoso filmato in cui si professava tifoso del napoli in cui diceva delle cose contro la juve o sulla juve diciamo così ironicamente parlando eccetera eccetera insomma le conoscete già e quindi ha deciso in coscienza di non evidentemente ravvisare la giusta serenità personale per poter sostenere l'accusa nel procedimento penale stiamo parlando di procedimento penale che ricordo passerà dal necessariamente dall'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare il 27 di marzo quindi praticamente tra cinque giorni tra cinque giorni la vecchia dirigenza compreso il l'ex presidente andragnelli saprà se passerà dal ruolo di indagato a ufficialmente al ruolo di imputato imputata la vecchia dirigenza che tutti quanti i dirigenti o alcuni di loro non lo so se verranno stralciate delle posizioni oppure se si procederà all'unanimità del giudizio davanti al GUP quindi rinvio a giudizio oppure archiviazione ma pare piuttosto evidente che il rinvio a giudizio è l'ipotesi più gettonata e se vogliamo anche più come dire verosimile data appunto la situazione in cui sta versando la juventus da mesi a questa parte il fatto che santorello non sostenga l'accusa non vuol dire che non ci sarà l'accusa ecco cioè scompriamo subito il campo dei dubbi è semplicemente la rinuncia di un magistrato che verrà sostituito da un altro magistrato quindi non cambia assolutamente niente nel panorama giuridico ci mancherebbe altro che ci vuole un pm così come ci vuole la difesa e garanzia avere la difesa poi dopo magari in altri procedimenti un po meno non parlo della giustizia ordinaria sto parlando di quella sportiva però comunque diciamo così che il posto di santoriello verrà sostituito entra in campo il sostituto del pm del pm santoriello io dico che è anche molto apprezzabile il suo gesto nel senso che vuole garantire di fronte ai media l'imparzialità del giudizio cioè comunque una parzialità perché comunque il politico ministero è di parte ma comunque una parzialità scevra da certe contaminazioni che a livello mediatico potrebbero pesare quindi il fatto di aver proclamato la proprio tifo per il napoli e ironizzato sulle champions della juventus e quant'altro quindi non tanto imparzialità ma professionalità ecco professionalità in questo senso parleremo di questo naturalmente e avremo modo di parlarne soprattutto dopo la decisione del giudice per l'udenza preliminare nel frattempo io mi sono soffermato molto anche nel servizio di questa mattina sulle dichiarazioni di adrian rabiot per la quali vanno elogiati i colleghi di tutto sport che hanno sono andati a claire fontaine a ritiro nazionale francese a raggiungere il calciatore nazionale in veste di calciatore nazionale naturalmente ha parlato anche e soprattutto direi di juventus e mi hanno colpito molto certe parole come il fatto per esempio di dire che c'è apertura vedete quanto quanto vi dicevo o vi si diceva negli ultimi giorni ha trovato conferma dalle parole francesi al momento non c'è niente ma attenzione che potrebbe firmare per un'altra società come potrebbe rimanere la juve perché apprezza moltissimo l'ambiente juve apprezza moltissimo massimiliano allegri che gli ha dato molta fiducia in effetti va va detto che rabbio è un giocatore completamente rinato anche se allegri ci ha messo due anni un anno e mezzo diciamo così o un anno di lavoro quello precedente per trovare i frutti quest'anno e poi la cultura del lavoro che c'è la juve lo star bene a torino la compattezza ecco cosa è emerso questo grande intento comune di squadra quella compattezza di cui si parla tanto ma che ha riscontri sia di campo e adesso anche di spogliatoio perché rabbio adesso è diventato un esponente dello spogliatoio potrebbe anche gli ultimi tre mesi di juve per carità ma è diventato un personaggio da seguire da inseguire da approfondire da studiare lui aveva già preso la parte della juve la causa della juve l'anno scorso vi ricordate dopo il famoso juve inter ricordato da allegri nell'ultima conferenza stampa post san siro rabbio andò giù pesante quando disse che l'inter aveva giocato in 12 cioè con l'arbitro che aveva condizionato la partita che era la partita che poteva far rientrare la juve clavorosamente la nota per lo scudetto quindi già si era schierato apertamente oggi si schiera ancora di più dicendo la penalizzazione sì se non ci fosse sarebbe meglio la champions sarebbe già stata conquistata ma credo con questo gruppo con questo gruppo con questa fame con questa determinazione che c'è all'interno di questo gruppo credo che possiamo raggiungere la qualificazione della prossima champions anche mantenendo i 15 punti di penalizzazione e questa è una frase molto importante molto pesante molto pesante perché c'è un'assunzione di responsabilità e soprattutto c'è una come dire una profonda e intima convinzione nella capacità di questa squadra per quello che sta mostrando soprattutto nella seconda parte della stagione il che non vuol dire che è un intento o un obiettivo che sarà raggiunto sicuramente qualora dovessero essere confermati i 15 punti ma significa che c'è una unione di intenti una compattezza di gruppo lo ribadisco perché poi è quello che c'è sostanzialmente alla base dei successi di una squadra qualunque tipo di successi essi siano c'è comunque una juve molto unita molto compatta molto determinata un po se mi permettete il contrario di quella juve che si era vista a monza nella gara di andata che si era vista ad aifa allora di unità e di compattezza non si poteva proprio parlare né diciamo così all'interno dello spogliatoio né tra spogliatoio e panchina cosa che adesso è cambiata è cambiata moltissimo gli piace torino piace a tutti vivere a torino piace a tutti stare a torino perché non c'è pressione perché un calciatore può girare questa strada tranquillamente non viene sicuramente assalito o comunque viene fatto nel dovuto modo con il dovuto rispetto e quindi ragazzi qua ripeto è chiaro che la con l'eventuale permanenza della juventus in europa potrebbe condizionare molto se non del tutto la decisione di adrian rabbiò però va detto che la juventus si è costruita in questi anni e soprattutto in questo ultimo anno un giocatore importantissimo e se mi permettete io come dissi qualche tempo fa e fui abbastanza assalito verbalmente su quello che sto dicendo se fossi nella juve farei proprio di tutto per trattenere un giocatore così importante ragazzi iscrivetevi al canale naturalmente ci vediamo questa sera con il secondo video e vi ricordo anche l'appuntamento con numero 10 ciao ciao ciao